Oggi su Fanner News, calcio a 5 e calcio a 8. Lido ad un passo dal cielo, i densi rimontati ma Starita è convinto, vinciamo il campionato. Rubei fa ancora gol così, stupefacente rete in Lodigianiso. Due mini campionati per i playoff, gironi A e B di C2, si creano le spaccature. I cerotti della Roma calcio a 8, tanti infortuni che condizionano la classifica. Momento Eurobet, accelerazione playoff, il calendario da una mano.